Dimmi, chi sono io? Tu chi sei? Quali parole porti con te? Da dove vieni? Dimmi, dov'è la tua casa? Ma tu cosa vedi in me che io non riesco a vedere? E se io fossi una scatola? Sono una scatola un po' strana. Sono piccola ma alta, molto decorata con alcuni adesivi che rappresentano le cose che preferisco. Sono un po' particolare, infatti sono fatta di vetro. Sono una scatola minuscola a forma di piramide. Sono rosa, di media grandezza. Sono un po' difettosa, infatti non posso essere chiusa perché i miei lati non sono uguali. Sono una scatola di colore scuro, nero. Sono bianca, come la carta, ma piena di scritte. Ma se tu dovessi partire, cosa porteresti con te? Ma se tu dovessi partire, cosa porterà? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quando io non ci sarò più, ma cosa rimane di me? Grazie a tutti. Sono un albero piccolo, sono una montagna altissima, sono il mio lavoro, il mio strumento, il cibo che mangio. Sono la mia famiglia, sono la mia casa. Io ci sono. Si comincia con un pranzo. Cibo e parole vanno bene insieme è la prima forma di avvicinamento in qualunque gruppo, cultura, società. Mi ricordo la tua storia, dove sono stato, dove sono ora, da dove vengo. La mia famiglia, è la mia famiglia. La mia famiglia, è la mia famiglia.